Buonasera a tutti, oggi ci troviamo in un posto molto molto interessante, in particolare ad Abbiategrasso, in sala consigliare dove si è appena tenuto un evento, ma un evento non come gli altri, perché in questo evento si è parlato di un tema, un tema molto molto interessante e ho qui con me i nostri ospiti di stasera, che sono Francesca, Chiara, Emiliano, Maria Grazia. Questi nostri ospiti hanno parlato oggi di linguistica, ma la linguistica vista da vari punti di vista. Partirei dal primo di questi ospiti, cioè Maria Grazia, di cui hai parlato in particolare? Io ho parlato dei disturbi del linguaggio. Quindi hai parlato della linguistica vista da un punto di vista... Insomma, quando non funziona più. Cioè tutte le cose belle del linguaggio, della lingua, quando però non ci sono. Puoi farci un esempio di cos'è un disturbo del linguaggio, un esempio di disturbo del linguaggio in particolare? Ce ne sono tantissimi, abbiamo parlato di afasia, che è quando appunto non si riesce più a parlare, cioè c'è una compromissione nella produzione, nella comprensione del linguaggio, oppure ci sono altri disturbi, che ne so, della forma del pensiero, che poi si tramutano anche in disturbi del linguaggio, come ad esempio la ridondanza procedurale, in cui diciamo si inseriscono concetti inutili nelle frasi e quindi si appesantisce tutto il discorso. Benissimo, benissimo, benissimo. Ti è piaciuto essere questa cosa? Tantissimo. Ti sei divertita? Sì, sì. Per fortuna. Benissimo, comunque la registrazione è stata fatta, eventualmente poi vediamo se riusciamo anche a mandarla. Poi, secondo ospite Emiliano, tu invece sei un esperto, esperto, un esperto di una lingua in particolare. Dell'islandese, sì. Ma da dove nasce questa passione per l'islandese, che è una lingua un po' interessante, perché comunque non è una lingua di tutti i giorni. Da dove nasce? Nasce da un viaggio che ho fatto in Islanda con i miei genitori, non mi ricordo quanti anni fa, nel 2013 penso. Mi è piaciuto così tanto questo posto, mi sono così innamorato, che quando sono tornato in Italia ho deciso di imparare questa lingua. e qualche anno dopo sono disescritto da scuola, in quarta liceo, e ho preso e sono andato in Islanda. Sono andato a vivere in Islanda, sono iscritto in una scuola lì, ho terminato la scuola lì e niente, ho imparato la lingua, ho vissuto lì, ho vissuto la cultura, sono entrato nella cultura e mi sono ancora di più innamorato di questa lingua. Adesso la insegno all'Istituto Culturale Nordico di Milano e è quello che volevo fare nella mia vita, la mia passione è così. E stasera in particolare ci hai fatto un viaggio attraverso l'Islanda, proprio un piccolo viaggio storico e linguistico. Dici una parola islandese, così, veloce, prima che ti viene in mente. Klukkaweather. Che significa? Che è quel... Klukkaweather è il tempo da finestra, ossia quando il tempo è molto bello, di solito d'inverno, il cielo terzo, il sole, e quindi se lo guardi attraverso la finestra è molto bello, è un bel tempo, è una bella giornata, però se vai fuori ci sono 15 gradi sotto zero e il vento, quindi non è così bello, è un tempo da finestra, perché te lo devi godere alla finestra, non fuori. Benissimo, grazie anche per questa parola islandese. Passiamo al nostro terzo ospite, Chiara, che ci ha parlato della linguistica in generale. No, scherzo. Di cosa ci hai parlato in particolare? Dei giochi di parole. Dei giochi di parole, ma come mai questa cosa? Studi qualcosa in particolare? Cosa fai nella vita? Perché sai dei giochi di parole? Allora, so dei giochi di parole perché da bambina non sapevo risolverli e quindi, dato che non sapevo risolverli, ho deciso di imparare a risolverli. E quindi, dopo una lezione, una serie di lezioni in didattica dell'italiano per stranieri, ho scoperto che appunto l'esistenza della ludolinguistica è la possibilità di insegnare l'italiano anche attraverso i giochi di parole e quindi questo mi ha reso ancora più interessata a qualcosa che non sapevo fare. E quindi, adesso in pratica hai immesso, in pratica, i tuoi giochi da piccola, ovviamente. E ti sei divertita stasera? Sì, sì. Stranamente neanche un po' di ansia. Per fortuna. Benissimo. E passiamo all'ultimissimo ospite, Francesca. Di cosa ci hai parlato invece? Io ho parlato di come in realtà la letteratura può aprire la mente e quindi favorire la conoscenza, oppure escardinare magari delle modalità di pensiero, oppure può in realtà incastrare ulteriormente. Quindi i tanni e la meraviglia della letteratura, leggere. A me viene subito la domanda a te, Francesca. Ma come nasce l'idea di questo evento? Ma questo evento è nato, l'abbiamo detto anche all'inizio per scherzo, no vabbè, è nato fondamentalmente davanti a un caffè, all'inizio in separate sedi, cioè caffè diversi, e poi successivamente un caffè insieme. L'idea era quella che appunto abbiamo detto all'inizio, cioè noi siamo consapevoli di iniziare, di stare per entrare davvero in un modo diverso di pensare e di agire. Questo proprio perché sul Covid è stato detto tanto, forse quello che non è stato sottolineato è che ha cambiato, ha cambiato tante cose. è stata la cesura tra il Novecento e il Duemila. E quello che era stato per l'Ottocento e il Novecento la prima guerra mondiale. Quindi comunque ci sono degli eventi che cambiano le carte in gioco. E quindi noi abbiamo deciso di esserci, cioè di continuare a stare nella realtà guardando avanti, non guardando indietro. Quindi non continuando a ragionare come se fossimo prima. Ma ok, adesso siamo nel porticciolo, dobbiamo partire. Adesso vi faccio una domanda ultima, ultima generale. Chi vuole mi risponda, altrimenti scappino. La domanda è molto semplice. Quanto per voi è importante la lingua in generale? quanto per voi è importante nella vostra vita? Una risposta veloce di ciascuno? Da una centocento. Sì, più o meno sì. Ma anche più cinquanta. La lingua è tutto. Il mondo viene trasmesso tramite la lingua, il pensiero viene trasmesso tramite la lingua, la cultura, tutto che sia scritto e che sia parlata. La lingua è tutto. Per forza. È il filtro attraverso il quale esprimiamo e introiettiamo il mondo. Benissimo. Io allora lancio la domanda anche ai nostri spettatori. Quanto per voi è importante la lingua? Vi saluto e ci vediamo alla prossima occasione. Grazie a tutti i nostri ospiti e complimenti per l'evento. Grazie.